Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio della Tekin3, sono con Gamebrill e Biokalien Biokalien, perché è brutto e triste Vi faccio vedere, vi faccio vedere un attimo che cosa abbiamo fatto Abbiamo nerdato un po' off camera, Michele vola Non è vero, non sono stato io Dai Michele, Michele Perché spoiler? Off camera mi sono fatto un hanglinder, ma non succede niente Dopo, dopo ce lo facciamo anche noi, ci facciamo l'hanglinder È una cosa comodissima Sei sempre il solito, sei sempre il solito Vai nell'angolino Ok, scusa mamma giù Come potete vedere, qui abbiamo iniziato a smeltare un po' di iron e un po' di ossidiana Adesso andremo a smeltarne ancora un botto perché Di ossidiana avrebbe bastare uno stack No, di più, di più, di più Ma guarda che un blocco di ossidiana ci dà in realtà tipo 9000 mi sa di dipide ossidiana No, credimi, abbiamo smeltato quintali di ossidiana Ti ricordi che abbiamo tipo 2000 di ossidiana? Ok, non ne abbiamo quasi più Abbiamo 400 pezzi Siamo sotto, tu dove hai messo? L'ho presa, l'ho messa a smeltare ancora Ok, ok Allora, per fare il ferro in questo pacchetto, cioè in maniera incredibile Dobbiamo o scavare o noi avevamo pensato a una cosa però non si può fare purtroppo Avevamo pensato a una cosa molto sadica Tipo una farm di iron golem Che si buttano nella tinca e si sciolgono Soffrendo Esatto E quindi niente, siamo fregati Se sentite trappanare da me è normale perché stanno smontando il palazzo Non capivo No, stanno smontando il palazzo, non lo so Merda, ok Esatto, quindi se sentite questi rumori è normale Ma Blink smontano i palazzi Allora, quindi Il Molten Drum di Obsidian lo possiamo fare Ci manca poco Madonna, la picchio, la picchio Ha assunto droghe oggi Ha assunto droghe Non è vero, sono state in silenzio fino adesso perché li stavo caricando Che li stava caricando Madonna, ok Comunque dovremmo riuscire Oh, le bolle Quello di Ossidiana diciamo che è praticamente fatto Quello di iron Quello di ferro Che ci metteremo una vita a fare Quello di lava l'abbiamo già fatto E poi ci manca quello exp In realtà nel modpack abbiamo aggiunto due mod In realtà che sono tre E che ci piacevano da un po' e vogliamo aggiungere Quindi in realtà la quest del ferro potremmo farla un pochino più facilmente Perché abbiamo aggiunto l'immersive engineering L'immersing integration Che però io non ho idea di come funzioni Quindi lo spiegherai tu E vabbè, vabbè, sì Però non è troppo difficile fidati Stiamo dicendo Il drum di acqua L'abbiamo già preso Sì, sì, sì Quello di exp Ci manca 100.000 più o meno Quindi dobbiamo trovare un metodo di produrre exp Allora, raga O andiamo ad ammazzare mob Noi E lo svuotiamo tutto quanto qua dentro Allora, noi Madonna Che fastidio Ma noi abbiamo degli experience bash, scusate Non lo so A qualche parte Non lo so Però, allora La farm di Di cervi La farm di cervi Che adesso abbiamo spento Perché non avevamo più Come si chiama Wid 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 No, no Wid No, no No, no No, no Non wid Wid Ok Praticamente Bruciando Non davano esperienza Cose varie Così invece ne danno proprio pochissima Non so se Mi faccio anche io L'eliplano Come cazzo Fammi uno anche a me Anch'io lo voglio L'angly Fanno anche a blink Tanto è una cazzata Basta Esatto È stick e pelle Come cibo Siamo messi benissimo Perché ci ha cucinato Un botto di carne Io ho anche un sacco di bistec Nell'inventario Comunque mamma mia Sono una cosa magnifica Ma scusa un secondo E con l'experience bash Come potresti farlo Miki È tipo con Un autonomous E Voh con un vacuum hopper Qualcosa del genere È fattibile Ho scritto VVV E X No Non ce l'abbiamo Aspetta ma Come si chiamano Bash Uh Essence berry bash Ah sì Essence berry bash Ne abbiamo due Ok Abbiamo autonomous Forse il query Forse la presi un query Non lo so Autonomous Ok ne abbiamo uno Quindi ne facciamo un altro Come è che si chiama Nelli plano Cos'è che si chiama Com'è che si chiama Hang glinder H-A-G Glinder Ok facciamo un altro Autonomous Aspetta Ah ok Stai facendo gli autonomous Ne faccio una Farm proprio così Sì 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 Ci sta Ci sta Allora no aspetta Cosa potrebbe servire Un vacuum hopper Un vacuum hopper Sì Oddio spero di riusci Spero Magari non Non ci riusciamo Te l'immagini Grazie Giorgia State usando tutti la stessa Madonna Allora Cos'era L'hai fatto il vacuum Autonomous No 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 Io sto facendo l'autonomous Io sto facendo Ho fatto già i cosi I vacuum hopper Ho preso un servo Gli item duct Dovremmo avere tipo tutto quanto Ah forse un tank Ok Il tank dovremmo averlo Potremmo utilizzare Abbiamo i drum Abbiamo i drum Utilizziamo questo che abbiamo già Quasi riempito Ok Ok E però dopo ci mettiamo lo stesso sopra il coso Ci mettiamo lo stesso sopra il drain Voglio spiccare il volo Voglio spiccare il volo Voglio spiccare il volo Vediamo come si usa il tasso adesso L'hai dato il blink? No Tieni blink E qua dentro Dentro la teca ti ho lasciato anche Come si vuole questa cosa? Eh il tasso adesso Ma ne hai due Perché ne hai due tu? Io ne ho No me ne hai dati due Michele Davvero? Si me ne hai dati due What the fuck? Ma ne avevo uno eh Eh non lo so Me ne sono arrivati due Oh hai preso No Me l'ho citocraftato Non ho citato niente Secondo Secondo me Gio l'ha droppato a me E l'hai preso tu Per forza Si l'ho droppato dal viso Eh ok E poi tu sei urlato Probabilmente tu sei rincoglionito Non ti sei accorto che te l'aveva droppato E l'hai raccolto tu? E quindi erano due Eh infatti No l'hai raccolto te Ah boh allora non mi sono accorto Va bene Questo jetpack mi attiva l'overmode da solo Ma what the fuck? Oddio che cosa strana No devi attivarla No se tipo stai per morire Ti attiva l'overmode da solo Non è vero Ti giuro Non me l'ha attivata a me Va bene Mickey 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 Andiamo a 2000 Raga veramente scusatemi Per questi suoni orribili Però No non ti perdoniamo Mi dispiace Gli autonomous Però gli autonomous vanno alimentati Eh ma basta un pannellino solare stupido In realtà Pannellino solare stupido mi piace Oddio non so se c'è la solar flux però Lo sai Solar Solar Abbiamo Photovoltaic cell Non la faremo mai Perché? Sì Abbiamo l'energetical oil L'electrical steel ci manca Ma non dovrebbe essere così difficile Ho fatto un coso Ho fatto un daylight Un daylight burner Scusa Abbiamo tutto quanto Tranne l'electrical steel Per fare queste cose Che si fa con il polverizzato Ma è facile Spero Lo faccio io il pannellino Ok Allora io intanto provo a pensare un attimo Come impostarlo Intanto Aspetta aspetta Fammi controllare Abbiamo pochissima sabbia Dobbiamo fare qualcosa Per fare più sabbia Oddio Oddio Mi sono teletrasportato praticamente Vediamo se l'ossidiana Ok Mi sa che l'abbiamo riempito sai Abbiamo Sì 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 Abbiamo Abbiamo il drum Abbiamo il drum In più Aspetta Giorgio Se non sbaglio Avevi detto Che c'era una quest Che potevamo finire Molto velocemente Sì E ci dava roba Delle pecore Sì sì Oddio ci dà un gabinetto Una televisione Però ci dà anche Una reward bag Magari Aspetta aspetta Infatti io già Uno squid L'ho ammazzato E ne stavo cercando Altri in realtà Ok Siamo sopra un lago Teoricamente Vai 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 Io vado a uccidere le pecore Voi cercate le pecore Servono pecore e squid Ah tra l'altro Non hai fatto vedere questa cosa Cosa L'applied Ora interfaccia bene L'inventario della Refined Relocation E non sappiamo il perché E non sappiamo perché Boh E boh A caso Funziona bene a caso Ragazzi se volete fare un modpack E usare la Refined Relocation Funziona a caso Sappiatelo Però cioè non collegatela La labia Mi dici quante pecore mancano Tipo il ferro non lo vede Però vedi la redstone Mi dici quante pecore mancano Ma solo un po' Non tutta Eh non lo so se la controlla Smettina di non ascoltarmi Ragazzi migliora Aiuto a muoio Aiuto a muoio Aiuto a muoio Le pecore mancano Tipo tre Tre Ok Ma se ne manca Eh no Le sto uccidendo anche io Le sto uccidendo le pecore Giorgia Squarta le squid E lo sto facendo Me ne mancano Quattro 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 Me ne mancano Ok Abbiamo anche l'electrical steel ragazzi Giusto per comunicarvelo Comunque Abbiamo Ok fai quello allora Ho già messo un fotovoltaic cell Ho già fatto un fotovoltaic cell No 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 Il daylight Quello Per il sole Scusa Questo fotovoltaic cell Produce massimo 10 RF a tick Venite Ma comunque non sono così pochi Per un autonomo Ma no L'autonomo va con nulla Tipo Va con il nulla Infatti Ok Speriamo basti Non lo so se funziona Ma basterà Basterà Io ci muoio Io ci muoio Al massimo Visto che non ne abbiamo Carbone La serie Energia Carbone Tutto quanto Bastato sul carbone Dall'inizio alla fine Madonna Ah e una cosa Che non abbiamo fatto vedere Che abbiamo modificato Abbiamo tolto Tutti I come si chiamano Il trapano Il trapano Si sta Intrappanando Gesù Praticamente Iniziamo a registrare È incredibile Va sempre a quest'ora È veramente incredibile Allora Ce l'ho Ce l'hai? Sì Oddio stavo uccisendo Manca una pecola Oddio ho ucciselato una foglia Davvero? Per sbaglio Dove sei scusami È dentro In mezzo Forestra Come si disattiva L'over mod Per favore dimmelo Io mi sono impostato un tasso Ok Manca una pecola Manca una pecola Ok L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Lo sto uccidendo Ha finito? Ha finito? Senti il trapano Madonna Veramente fastidiosissimo Però di solito Fanno per poco tempo Quindi Dovrebbe essere finito Io dovrei aver finito Gli squid Invece Vediamo Sì Sì L'abbiamo? Vai Cosa manca? Zombie Skeletor Creeper Davvero? 64 Sembrava Troppo facile Per essere vero Davvero? No In effetti Sembrava troppo facile E non ce ne conta nessuno Uno stack di zombie Uno di Skeletor Uno di Creeper Vabbè Dai Ma è bello che ti trolla Una televisione Un enderium Blocco in posto No Allora Allora Questo ti sta trollando malissimo E dopo c'è ancora roba Da uccidere Sicuro L'immagini Sicuro quanto è il male No Secondo me finisce Dai Dopo uno stack di creeper Uno stack di zombie Uno stack di scheleti Che cosa devi fare Infatti Ma oddio Ci dà due reward bag Ci dà due reward bag Potrebbero darci roba figa Però buone Non sono reward così tanto Gross Vabbè Comunque Ti abbiamo fatto Un po' per niente Andiamo su Questi piante Non lo so Sotto o sopra Mettiamolo sotto terra Vai 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 Ci sono Sotto terra con il solar panel Sì 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 Grande Mi sembra un'ottima idea Funzionerà sicuramente Vai 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 di mucche Però io aspetta Non ho Tipo sparirà Qua c'è della terra Così a caso Ti viene tutto distrutto Aspetta Aspetta Vado a prendere un attimo i tubi Perché serviranno dei tubi Eh no Ho tutto quanto io Hai tutto? Ok Sì Ma mettiamolo Mettiamoli in un punto In cui magari c'è abbastanza terra Dai Perché non abbiamo terra Scusami Perché ci serve terra? Ma qua qua è tutto sfondato Vabbè non importa Mettiamolo qua Ah Magari si sono accorti Che ho tappato il buco Del query Ma infatti mi chiedevo Che fino avesse fatto il No Allora in realtà È uno strato tipo Due di terra Due? Sì Che avrei fatto da uno Vabbè c'è una tanta roba Cioè Dove sei? Sono qua Ah metti il Dove sei? Sono qui Ah ok È qua Metti l'experience buy Poi dicono a me Ne hai due di autonomous? Eh sì Allora sì servono i cavi di energia Pensavo che si fatto soltanto uno Ah no ok Vabbè c'è la 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 vai Metti gli autonomous Ah via Bravo Ok Ok Perché uno? Uno L'altro è scomparso Non bello C'è la mano Adesso c'è la mano Ok 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 Solar panel Però aspetta 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 Non si attacca Cosa non si attacca? Posso metterli sopra? Ok funziona Ok Sto trasferendo energia E sta alimentando entrambi gli autonomous Produce niente Il nulla proprio Ma l'importante è che produca No Ma infatti guarda che stanno cliccando il tasto destro Comunque raccima l'energia, quindi voglio dire che basta Il di giorno, poi di notte magari Consuma un po' troppo, però vabbè, sti cazzi Senti, funziona di giorno Secondo me fino a quando si accumula, vedi come è basso Allora, teoricamente No, no Ti prego, dimmi che abbiamo ossa Dimmi che abbiamo ossa Perché? Sì, 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 ce l'abbiamo Mamma mia, però che fastidio sto trapano, raga Io ve lo giuro, mi scuso tantissimo Però che stai facendo? Guarda che ho tutto per questa cosa Hai watering can? Sì, davvero? Sì, ma io non ho caldo per me Ok, ok Allora, facciamo così, così e così No, no, Gio, non mi morire, non mi morire, per favore Non mi morire Mettiamo gli input di cose da sopra Ok, ci siamo Alvi, l'impianto che ha chiesto è completo Funziona? No, non lo so se funziona, lo dobbiamo provare Aspetta, vediamo un attimo Io ce l'ho un watering cane, vediamo se crescono sti cosi Se non sbaglio così dovrebbe funzionare Vai, 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 li sto facendo crescere Anche io, anch'io, anch'io L'output di oggetti lo metto qua in modo tale che le cose che raccoglie le ributta all'interno dell'autonomus Crescono, 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 crescono Crescono, crescono E allora serve anche il tank, il tank metti E qua metto il drum Vai, il drum Vai, drummiamo il drum Vediamo se funziona Oddio quanto sono scemo Togliti Allora abbiamo 141820 Ricordiamoci 141820 Dai I millibucket Bombilliamoli Ok, crescono, crescono Ancora uno stage No, no, no Ancora uno Dopo dovrebbe andare Ah, ok, l'hai scritto L'hai scritto L'hai scritto in chat Cresci Vai, dai Se siamo in tre forze non migliora la situazione No, lo so Però noi ci crediamo È l'unione della forza, capito? Cioè Va bene Chiaro Ma con il bombillo non funziona Vai, vai, vai Questo adesso Questo ci darà dell'expo Ok Teoricamente dovrebbe raccoglierla Cioè Automaticamente Dovrebbe No, tipo sdropparla all'autonomus Che la raccoglie il vacuum hopper Che la butta dentro il vacuum L'autonomus Che clicca a tasto destro Prende l'expo Che la prende il vacuum hopper E la butta qua dentro Esattamente No, aspetta Mi sono persa un pezzo Mi sono persa Perché dovrebbe tornare Un attimo Perché dovrebbe tornare nell'autonomus Perché Allora Questi Bash Ci danno Hai presente quelle palline di expert? Sì, 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 sì Ovvio, sì Ok Eccole Eccole Aspetta Le ha prese? L'ha preso? E' eccomi L'ha preso? Ma non serve No, no, no Era nato di No, io l'ho vista uscire L'abbiamo raccolto noi? Eccola 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 Guarda che va Guardate il drum Guardate il drum ragazzi Sì, sì, è aumentato Aumentato 1, 4, 2, 2, 0, 0 2, 2, 0 Madonna Che farlo efficiente Questa è una Vabbè, non è troppo efficiente Però se lasciamo tutto quanto acceso così Ci metterà i secoli Ci metterà i secoli Guardiamo un attimo Guardiamo un attimo Un modo di mettere, Giorgia? Quello va dentro Aspetta Entra nel primo Tanto è trascendo Potremmo anche toglierlo Il secondo Allora Vasti cazzi Ah, sì, sì, sì Vabbè, vabbè Da 2200 va a E non passatevi davanti Non lo vedo cambiare C'è un tubo È entrato un tubo Sì, lo so, ho sbagliato io Michele? Eh, non, non, non Forse l'ho presa io l'esperienza Michele? Qualcuno che è passato Eh, io ne ho un po' di exp Appunto Vai Non sta prendendo l'ex Ok, vai, vai, vai La presa Ok, sì Ok E abbiamo 143.000 E mezzo Millibar Ok, perfetto Di esperienza Quindi Quindi, aspetta, aspetta Se tu hai detto Che con la mod Che abbiamo aggiunto Sì Eh, Giò Devi continuare a fare Le foglie Con gli immersive geni Dovremmo essere in grado Di fare tipo Una trivella super grande Per prendere il ferro Il ferro Che ci rimane Per fare il drum di ferro Ok, ok, ok È già andato dentro È già andato dentro È già andato dentro Guarda come funziona Allontanati Che magari quando la sputa Eh, quando sputa No, no, no La prende, la prende Quindi Allora, raga Dio che è passato Anche abbastanza tempo Perché tipo L'episodio sta già durando Sì, sì, sì Sta già durando Non so 17 minuti Non mi cagano Non mi cagano Guarda ma ha preso il via Sto coso Ma eravamo fomentatissimi Funziona stra bene È perché sto bombillando io Qua col watering can Quindi Ragazzi Per questo video è tutto Vi ricordo che domani Il video lo troverete Sul video di Sul video del canale Di Debrilli Come nel Video di Michele Come nel primo video Quindi Come nel canale nel video Come nel canale del video Di Michele Esatto Quindi ci siete domani Che giovedì Col video di Michele Nel canale Della Tekkin3 E basta E poi da Giorgia E basta In descrizione Ciao Per carità di Dio Non fai le altre cose Ciao 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 Ciao